Ciao ragazzi, oggi siamo qui su minecraft, non sulla invernagraph stranamente, persino il server di questo tizio che andrà in descrizione, mi raccomando cliccateci, molto belli video, molto belli quello di commentare il server, l'ho provato a farlo ma non avevo voglia, quindi sono trovato il tuo, ho fatto un po' like perché ho visto il tuo numero del server e sono entrato, comunque raga, se volete entrare, no? non c'è il nome, mi raccomando reggete le regole da te, no? Bella ragazzi! Ok sì, vai in tisana, ho spento per un'altra cosa, vai! Ok, adesso ti faccio vedere, la prima cosa ti faccio vedere il grattacielo, quello là! Quello è il grattacielo, rega, e non ce l'ho, ti fa, quindi non posso zoomare, però vabbè, ho il 1.14, e qui ho 1.16, quindi non avevo le shader mode, quindi il gioco fa un po' schifo, però aspettate, perché mi potrei mettere, no, non mi potrei mettere neanche la texture pack, perché non ce l'ho! Sì, andiamo, no, 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 come sapete, io ho fatto un po' di cambiamenti nel nostro mondo, quindi ho messo un circuito che con questa leva si spegnono tutte le luci in tutto il palazzo. Ficcigata! Eh, però qui c'è un problema, mi sa! No, però accendiamola perché ce l'ho spostato! E qui si fa parkour però! Devi venire qui a fare... Eh, aspetta, devi salire sul blocco! Eh, non so, molto brava il parkour su Minecraft, perché ho l'idea! Eh, è un problema che dobbiamo risolvere, però... Qua c'è il secondo piano, poi c'è il secondo piano, poi salendo ancora c'è il terzo, secondo i miei conti quando dovrebbe essere ultimato ci dovrebbero essere dodici piani. Dodici piani, ma dò... Eh... Ecco, l'ultimo piano lo sto ancora costruendo. Oh no, ok, sono caduto! Sono caduto! Attendo che cade e che fai male. Qua, quello lì è il molo, quello lì è in fondo, non lo dico. Qui c'è la media tabella di sporre, quindi se sporre potrete mai in questo mondo leggete tutto, quindi leggete bene, e andiamo qua. Quindi li dì, li dì in descrizione, li dì per entrare in cui c'è per aver aperto a tutti. Adesso vedi qua che ti faccio vedere l'aeroporto. L'aeroporto... Questo è il terminal, dove aspetta il passaggio di partire, questo è la pista e quello lì è l'aereo. Ok, wow, i ghiacciai! Ma lo sai che sto bioma dei ghiacciai è in ferraro? Eh sì, abbiamo vicino anche il bioma dei ghiacciai. Allora... E' un po' piccolissimo. E' un po' piccolissimo. Crafting table perché se... C'ho dei problemi con il ghiacciai. Io mangio però non mi disfama. Ma che è quello che intendo? Crafting table. Ah! Stiamo prezzimitando! Stiamo prezzimitando! Dai dai... Tutti fuori... 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 Tutto questo tile grossaro, lo lo infilino qui su tutto. Ma ch... Ma come? E poi è più ritorce... Come fa? Piaccia diarsalo non si può entrare, vero? o si? whole house in casa vecchia di alessandro Poi è matura, sono armi non c'è nulla questa è il casco, poi là sopra c'è una torre di avvistamento dei mostri in caso di una corda dei mostri e poi qua è casa mia, questo è il regno oscuro ma è ancora casa oppure vecchia? no, c'è una clappola ah qui si scende bro, ah ok si, bene e io sono caduto di sotto quello è il sotto passaggio, è il sotto passaggio che collega le casco poi se vai di là, quella è il magazzino di casa di Francesco ma c'è fatto qualcosa perché qui è tutto per terra qua sotto c'è la miniera va bene regà, questo video finisce qui e ci vediamo in un prossimo video bella